Chi cambierà le nostre vite? Oggi infatti So Che c'è? Dove siamo? In vacanza, abbiamo gli occhieri da sole Hai ragione, ci troviamo in Sicilia Siamo tornati a casa Da considerare che siamo a fine dicembre, quasi gennaio E guardate che giornata La neve C'è il cielo blu C'è il sole in alto nel cielo Nel blu Dipinto di blu Felice di stare qua giù Qualche giorno fa, come avete visto sul nostro canale È uscito un video super emozionante Ovvero la lettera d'amore che ho scritto a Sofì per il nostro anniversario Io davvero non mi aspettavo niente di tutto ciò Lui è arrivato a casa mia e mi ha detto Sul nostro canale sta per uscire un video dedicato a te Che non è altro che il mio regalo per il nostro anniversario Quindi vada qua E ho avuto quindi una reazione davvero inaspettata Io di solito non sono così, eh Non sono una persona sensibile, fragile Che mi lascia prendere dalle emozioni O forse sì Comunque siete curiosi di vedere come ho reagito Ovviamente abbiamo ripreso tutto Quindi balla, clipi, tre, due, uno Sofì sei pronta per la tua sorpresa Sorpresa? Sì, devi vedere un video Un video dei me contro te Sì, più o meno In che senso? Mettiti comoda Già lo so Ecco qua Mi intera Sofì Sì La carciafina Anzi La mia carciafina Ti ricordo come fosse ieri Quel poverice In cui ti incontrai Tu Bellissima Solare Brillante Io Un povero spiegato pieno di soldi Come ti sei innamorata di me Non so spiegare Ma so solo che è bastato un battito Per farmi innamorare di te Questo è stato l'inizio della storia Che cambierà le nostre vite Oggi infatti Sono passati sei anni da quel giorno E più passa il tempo E più mi davvero di te Che sei carino Ti amo perché sei fantastico Sei speciale Sei semplicemente tu Non possiamo sapere Cosa ci riservi in futuro Quale avventure vivremo Quali mondi scopriremo Ma di una cosa sono certo Che voglio scoprirlo Accanto a te Ma mio passolettino Senza sei Ti amo Perché non mi preparai A mio passolettino Con una fontana Pieni Grazie Grazie È un bellissimo video Mi sono emozionata Sì ok Ma tu non eri niente da dire Io ti ho detto delle parole bellissime E tu va bene Grazie Che anche io ricambio Dammi un faccialetto Sono emozionato Dicevo Non devi giocare con i miei sentimenti È stata una relazione vera Che sei 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 Perché ho avuto una reazione Così spropositata Perché cosa Perché a differenza di tutte le altre ragazze Che sono abituate a ricevere Delle lettere d'amore Io Non ne ricevo mai E quindi questa volta Che l'ho ricevuta una Mi sono emozionata In maniera spropositata Capito Perché non sono abituata Perché tu non sei romantico Io sono romanticissimo Infatti fino a prova contraria Io ti ho fatto la lettera E tu cosa mi hai regalato Per l'anniversario Ti ho regalato La mia emozione Ma che regalo è Ero carinissima Dolcissima Purissima Levissima Ma sveglia Sono sei anni Che ti sopporto Che cosa fai È verità È che anche se non lo dimostro ogni giorno Tu Caro Luì Sei la persona più dolce del mondo Sei un dolcino E tu sei la mia carciofina Sì Quindi avete capito Stiamo insieme da sei anni Sei anni Sei anni E starei con me Per ancora tantissimi altri anni Per altri mille Ma cos'è È un incantesimo questo Ormai fatta Starei con me per altri mille anni Come minimo Ma vi aspettavate una reazione così Vi immaginavate Che Sophie scoppiassi i lacrime Dove i primi dieci secondi di video Ma anche meno Secondo me Dove i primi tre È stato davvero bellissimo È super emozionante Spero davvero che vi sia piaciuto Tutto bene Sento un cane a bagnare Dove è Ray? Ehm Qui non c'è Ray? Ray? Ma cosa fai? Sarai tutto pieno di pelli di Ray? No 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 Ah è vero Dimenticavo È in giro a fare una passeggiata Con i miei genitori Che bello Quando siamo qui Ci sono sia Kira che Ray E noi siamo super felici Di stare con loro Piccoli piccoli cuccioli Sono un dolcino Una carciofina Minuscoli Proprio come noi E ovviamente vi promettiamo Che ritorneranno sul canale E che prima di tornare a Milano Registreremo altri video Insieme a loro Domani e dopo domani Usciranno due video davvero incredibili E super divertenti Che abbiamo registrato a Milano Uno scherzo E una challenge Qualcosa davvero di super pazzo E super folle Quindi assolutamente Non ve li perdete E iscrivetevi al canale Cosa super importante Vi ricordo che restano gli ultimi giorni Per prendere le nostre maglie ufficiali Scontate del 50% Affrettatevi Perché sono rimasti davvero Gli ultimi pezzi Quindi correte sul nostro sito Mecontrata.it Se le shop Oppure il link Qui sotto in descrizione Mandiamo un bacione gigante Alla trotelite di oggi Che è Gianluca Crispino Mandiamo un bacione a tutti Il trotelite Ci vediamo domani Con l'ultima avventura Ciao Colpo della calza di Natale Ah!